Musica Mercoledì 27 marzo 2019, buongiorno, bentrovati appuntamento con la nostra consigliata Rassegna Stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, come sempre apriamo, andiamo per ordine le prime pagine dei giornali abruzzesi, iniziamo con le quattro edizioni del centro, partiamo da Pescara, il titolo principale riguarda la cronaca accoltellata e rapinata sulla riviera, 39 anni in ospedale, aggredita dall'ex che aveva denunciato per stalking. Vediamo anche un'altra notizia in basso che riguarda sempre Pescara e sempre la cronaca aggressioni in pronto soccorso, infermieri in rivolta, violenza in ospedale, gli operatori sanitari pronti a chiedere i danni. Vediamo anche altre notizie, tragedia ieri sulla A25 nel territorio comunale di Villanova, medico di 66 anni muore nell'auto, uscita di strada. Pescara e poi ancora Pescara, abusi sul figlio e la moglie, condannato a 13 anni. Vediamo una notizia che riguarda lo sport, in particolare la nazionale per quanto concerne le qualificazioni verso Euro 2020. Ieri 6 a 0 degli azzurri con il Ligtestain, grande prova di Marco Verratti, autore anche di una rete, secondo gol in maglia azzurra per l'ex giocatore del Pescara. Siamo alla prima pagina del centro di Chieti, Lanciano Vasto, presidente di volle accusato di abusi, questo è il titolo di apertura, patrono di una squadra indagato dopo il racconto di una giocatrice di 16 anni. Vediamo poi a centro pagina, commercio in centro, siamo a Chieti, ecco chi scommette sul corso, negozi e locali, nuove aperture a Chieti. Vediamo le altre notizie che arrivano da Chieti e dalla provincia, così facevano sparire i soldi delle bollette. Siamo a Chieti, poi Vasto crepe e pioggia nel mercato rifatto quattro anni fa. Da Vasto ci spostiamo a Lanciano, il titolo è questo, spuntano debiti per 90 mila Euro, stop ai concerti. Vediamo altri richiami di articoli che troveremo all'interno del giornale, occupazione in Abruzzo, ferrovie, cerca tecnici e diplomati, le domande entro il 5 aprile. Poi sisma 2016, ricostruzione più veloce nei comuni abruzzesi del cratere, il presidente della regione Marco Marsiglio ha firmato il decreto. Vediamo la prima pagina di Teramo del centro, camera di commercio niente fusione, il Consiglio di Teramo chiede la sospensione della procedura avviata con l'Aquila. Centro pagina, vedete la fotonotizia, riguarda la sanità, l'ospedale di Teramo all'avanguardia, la dialisi si può fare da casa in collegamento video. Vediamo le altre notizie, ancora Teramo acqua a rischio, fissata l'udienza per 10 imputati il 10 aprile. E poi vediamo un'altra notizia, ancora Teramo decisi gli sconti sull'imposta unica comunale. Da Teramo andiamo a Giulianova dove ovviamente si parla soprattutto di elezioni amministrative e anche la Cameli in campo con due liste civiche. Vediamo un'altra notizia, altro argomento, siamo a Tortoreto, guardie armate contro lo sciopero hanno impedito agli operai della Celta di lavorare in segno di protesta. Questo è il titolo che leggiamo sempre dalla prima pagina di Teramo del centro. Andiamo a vedere la prima pagina di l'Aquila, Avezzano, Sulmona, Biondi resta, giunta bis e veleni. L'Aquila cinque volti nuovi, tra cui Fabrizi, ex dirigente dell'era Cialente. Forza Italia fuori dalla giunta infuriata. La consigliera reghista condannata, non lascio il posto Avezzano comune nella bufera. E poi ancora l'Aquila sisma verso il decennale, i nostri racconti, i racconti dei giornalisti del centro. E poi l'Aquila minore abusata in centro, due condannati. Ancora l'Aquila, i big del farmaco donano al 118 una ambulanza. Dall'Aquila ci spostiamo in Valle Peligna, Sulmona, il comune caccia l'impiegato infedele, fuga dopo la timbatrua dei cartellini, provvedimenti per 25 dipendenti. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, l'apertura dedicata alla politica. Biondi resta, c'è la nuova giunta, il sindaco dell'Aquila ritira le dimissioni. È presente il nuovo esecutivo con molti innesti civici e tecnici. Risolto anche il nodo dei fondi per il bilancio dal governo. Buone notizie, ha detto il sindaco. Dall'Aquila andiamo a Pescara, si parla anche in questo caso di elezioni. Oggi, scusate, la decisione del centrodestra, sette i nomi in ballo. Parliamo ovviamente dei nomi per l'incarico, per la carica di candidato sindaco, proprio per le amministrative di Pescara del 26 maggio. E a Montesilvano sfiduciato maragno da alcune civiche, poi leggeremo all'interno nel dettaglio quello che sta accadendo a Montesilvano. Vediamo le altre notizie. Siamo sul Mona, un licenziamento e 14 sospensioni per assenteismo. Poi Pescara, aree di risulta, la delibera sepolta da emendamenti. E poi giornata tragica, quella di ieri sulle strade abruzzesi, due morti sull'A14 e sulla 25 a Lanciano e Villanova. Vediamo anche l'articolo di spalla. Sisma, il Presidente Marsilio sblocca i lavori, ma il PD attacca esecutivo slow. Vediamo anche qualche altro titolo, uno in basso, frontiera premio a Di Gregorio per quanto riguarda la notte dei David. In alto invece andiamo a vedere altri richiami che riguardano lo sport, ma anche la cronaca. L'estate alle porte, Pescara cambia la gestione di Alcione, il ristorante VIP. Poi arriva il Giro d'Italia, parliamo di ciclismo, basto si rifà il trucco, soldi per asfaltare le strade rosa. Poi Pescara, a tegola, imprevista per il centrocampista Filippo Melegoni, stagione finita dopo l'infortunio corso nella gara con la nazionale Under 20. che è costata questo infortunio al giocatore pescarese, che dunque chiude in anticipo la stagione, mettendo un po' nei guai pillon già a corto di centrocampisti. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città, Marsilio libera, gli appalti pubblici, ricostruzione, firmato il decreto che sblocca i lavori nei comuni del cratere sismico. E poi Modena, da diutorio si aggiudica i lavori dell'ospedale modenese. Vediamo altri titoli, il ritorno del socio privato, suona la sveglia in Teramo Ambiente, economia a Mosciano. In arrivo altri due siti produttivi. Vediamo altre notizie. Retromarcia sulla fusione della Camera di Commercio di Teramo con l'Aquila e poi Rosetto degli Abruzzi. Riduzione etaria, provate tra le polemiche. E poi la CISL lancia lo sportello regionale del lavoro e a Giulianova Cameli corre da sola con due civiche cattoliche in vista delle amministrative. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, tra poco torneremo a parlare delle vicende di casa nostra, ma andiamo a vedere l'edicola nazionale, apertura dedicata al Corriere della Sera. Cittadinanza, vedete il titolo, ai piccoli eroi. Il ministro dell'interno Salvini accoglie l'appello per Rami e Adam. Di Maio, l'ho convinto io, il leader leghista sul ragazzo egiziano, come un figlio. La risposta del piccolo eroe, non me l'aspettavo. Vediamo poi, più a centro pagina, la volontaria rapita quattro mesi fa il sequestro di Silvia, Roma al Kenya, lasciateci indagare. E poi, giusto demolire San Siro, Milano, la disfida sullo stadio, si parla del futuro, dello stadio Meazza di San Siro, che ospita, come tutti sapete, le gare di calcio di Milan e Inter. Vediamo anche in basso un altro titolo, l'Unione Europea riforma il copyright più tutele per editori e artisti. Vediamo la Repubblica, la bolletta elettorale. Il presidente dell'autority, nominato da Di Maio, riduce fortemente le tariffe da aprile. Effetto dell'invernomite, del ribasso sul mercato energetico. Il leader 5 Stelle, un aiuto alle famiglie. Questo è un titolo che farà sicuramente piacere a tutti i cittadini italiani. Vedete, luce meno 8,5%, gas meno 9,9%. Vediamo il fatto quotidiano, le chat segrete che inguaiano Babbo Tiziano. Questo è l'esclusivo del fatto oggi in edicola. Vediamo il giornale, Battisti, verbali shock, confessioni di un terrorista. E poi vedete più in basso, Rami, Salvini cambia idea, subito la cittadinanza all'eroe della strage sventata. Vediamo anche il mattino di Napoli, quota 100, la frenata dopo il boom iniziale, il netto calo delle domande nell'ultima settimana, la corsa di esodati piccoli e autonomi e statali a sud, la crisi stoppa i privati. E poi vedete, chi copia paga, Europarlamento via libera, anche all'addio dell'ora legale dal 2021, ma la notizia principale riguarda le nuove regole che riguardano il copyright, soprattutto per quanto riguarda i giganti del web. Vediamo il messaggero nazionale, il Papa no al degrado di Roma, dice il pontefice in visita al Campidoglio, tanto splendore richiede cure, la città sia accogliente. Anche sul messaggero troviamo la notizia del copyright svolta a Strasburgo, con tutele sul web a editori ed artisti. Vediamo anche il manifesto, Salvini, il buono, ius soli ma solo per due, il Ministro ricambia idea, e ora dà l'ok alla cittadinanza per Rami e Adam Di Maio, dice merito mio. E poi vedete, delitto d'autore, e questo è il titolo con corredo di foto, il Parlamento europeo approva la controversa direttiva sul copyright che diventa il diritto proprietario dei colossi della rete, i gruppi politici spaccati sul compromesso raggiunto tra interessi delle imprese digitali e dei grandi editori, il rischio della censura preventiva, scrive il manifesto. Vediamo il sole 24 ore, def crescita ferma al più 0,1% e deficit verso quota 2,4%. Questo i numeri del documento di economia e finanza con cifre e numeri non proprio esaltanti per il nostro Paese. Vedete anche sul sole 24 ore, anche il web pagherà i diritti d'autore. Vediamo anche Libero, Di Battista darà il colpo di grazia, Di Maio sarà sostituito da un boia, scrive Libero e poi vedete a centropagina si parla di calcio con una notizia che è una via di mezzo tra calcio e la cronaca perché il papà di Kian, Kian, giocatore dell'Italia, giocatore azzurro e leghista, la Juve mi deve due trattori, il genitore del bomber azzurro si confessa. Vediamo anche la stampa di Torino, la svolta dell'Europa, nasce lo scudo online per il diritto d'autore. Poi all'osservatore romano scoppia la guerra delle donne, scaraffia noi stanche di essere invisibili. Dunque una polemica tutta interna al Vaticano e attraverso il giornale proprio dello Stato Pontificio, ovvero l'osservatore romano. Siamo al Tempo di Roma, le soffiate su Conte della Cricca, Movimento 5 Stelle, il titolo del Tempo. Poi in alto vedete Artigiani, rivincita contro il Comune, titolo che riguarda soprattutto la Capitale, come anche questo titolo con il corredo della foto, il Papa in Campidogno, curate Roma, ha detto il Pontefice. Secolo.it, il mal d'Europa, Zingaretti, curatore fallimentare del PD, dopo la bandiera, il simbolo. Vediamo anche il quotidiano La Verità, altra inchiesta su Babbo Renzi, la procura di Firenze in movimento. E poi vedete più in basso Battisti Shock, così uccidevo le mie vittime. Siamo al quotidiano della Ceil Avvenire, il Papa per Roma, rinascita morale con l'accoglienza. Papa Francesco in Campidoglio richiama l'anima della città fatta di ponti e non di muri, non abbiate paura della bontà. Parla anche il sindaco Raggi che dice possiamo farcela. Vedete poi a centro pagina, il web ora pagherà, si la direttiva sul copyright, un ecocompenso per i contenuti di editori ed artisti. E questo era l'ultimo quotidiano preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. Torniamo ai quotidiani abruzzesi, ripartiamo dal centro, da pagina 2, si parla di occupazione, ferrovie e posti per tecnici e diplomati. Vedete il titolo di pagina 2, le domande entro il 5 aprile e ieri il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato il bilancio 2018 con utili per 559 milioni e ricavi per 12 miliardi. Pensioni quota 100 rallentano, le domande in Abruzzo sono 3.074. Andiamo poi in basso, altre due notizie, Confindustria Chieti Pescara, imprese Governance Legno e Varie, nuovi vertici, l'Assemblea elegge Presidente Artoni affiancato dal Vice Angelucci e dal Consigliere Di Polito. I padriati Cabruzzo capofila del progetto dell'Unione Europea contro le frodi, questo è l'altro titolo. Proseguiamo, si parla a pagina 3 di istruzioni a scuola, 1780 studenti in meno, il dato 2019-2020 ufficializzato dall'ufficio scolastico regionale desiati della Cisle come se fossero stati cancellati. Tre istituti. In basso parliamo invece di vino, del vino abruzzese perché nasce Rosa Autoctono, il distretto del vino rosei, i principali consorzi di tutela firmano l'accordo al Ministero a rappresentare l'Abruzzo, c'è il Cerasuolo. Andiamo avanti, siamo ancora alle pagine regionali, parliamo del terremoto del 2016, sisma, ricostruzione più veloce nei comuni del cratere, Marsiglio, Presidente della Regione, infatti firmato il decreto dopo la riunione a Teramo, i sindaci possono appaltare da soli gli interventi approvati. E vedete poi di fianco il PD, la nuova giunta, parte dal lavoro della vecchia, della vecchia giunta in questo caso. Parliamo anche di elezioni, ecco perché facciamo ricorso delle elezioni regionali che si sono tenute qualche settimana fa, i rilievi del centro-sinistra che rivuole i due seggi attribuiti al Movimento 5 Stelle, i voti hanno tutti lo stesso valore. D'Amico Pietrucci, Di Matteo e Caramanico contro la decisione dell'ufficio elettorale centrale. La coalizione guidata da Legnini ha riportato circa 70 mila preferenze in più rispetto al 5 Stelle. Andiamo avanti a vedere la prossima pagina del quotidiano il centro, ci porta alle cronache dalle province, apriamo con Pescara, con la violenza in ospedale, gli infermieri basta aggressioni, i responsabili pagheranno i danni. Dopo un'aggressione subita da due infermieri due giorni fa nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara. Casciano, ambulanti e senza tetto tra i reparti. E poi, vedete più in basso, gli impegni della politica, parla l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verighe, dice rivedere la rete di assistenza, ma con un occhio al bilancio. Aggressione sulla riviera accoltellata e rapinata sulla spiaggia, una donna di 39 anni raccontata di essere stata colpita con un taglierino dal suo ex che le ha rubato i telefonini. Ancora cronaca, sempre Pescara in questo caso, presso con i motori rubati nel furgone, bloccato con il materiale per la navigazione, sparito dal rimessaggio. Protagonista un 35enne romeno che è stato denunciato dai carabinieri che hanno recuperato la refurtiva all'interno proprio di un furgone sul lungo fiume di Pescara. Violenza in casa, arriva la sentenza, si ero positivo, contagia la moglie e abusa del figlio, pena di 13 anni. L'uomo avrebbe approfittato per 10 anni del bambino e maltrattato la coniuge con problemi psichici. La donna non poteva uscire dalla camera da letto per non sporcare l'imputato. Da un anno è in cella. Andiamo in basso, domani l'addio a Pescara all'imprenditore 46enne Di Giovanni, scomparso nei giorni scorsi. Poi tornando invece alla cronaca, blitz della polizia, cocaina e ascici in casa, arrestata dopo la perquisizione. Verso le elezioni comunali a Pescara entra più che mai nel vivo la competizione elettorale con i vari schieramenti alle prese con il nodo candidati. Nel Movimento 5 Stelle tutto risolto con già da qualche giorno la candidatura ufficiale di Erika Alessandrini. Nel centro-sinistra vedete il titolo, la candidatura di Caldora divide perché emergono delle perplessità sulla proposta del PD di puntare sull'imprenditrice, tra l'altro ex presidente del Pescara Deborah Caldora, figlia dello storico presidente della società Bianca Azzurra. Si cercano altri nomi, il vertice previsto per oggi però potrebbe di nuovo slittare. In casa del centro-destra Masci sindaco, ora Forza Italia ci crede, grandi manovre nel centro-destra ma c'è anche un altro potenziale candidato che è Luigi Albore Mascia. E intanto ieri è approdata in consiglio comunale, è approdato nella sala consigliare del comune di Pescara proprio in consiglio, il progetto per le aree di risulta, progetto contestato dalle opposizioni, 10.000 modifiche al progetto scontro in consiglio, emendamenti e osservazioni bloccano l'approvazione del documento. Ieri dunque molto animata la seduta in consiglio comunale a Pescara, andiamo a vedere dunque il servizio. E' approdato oggi in aula in consiglio comunale a Pescara il tanto contestato progetto delle aree di risulta. Dopo il respingimento delle osservazioni in commissione da parte della maggioranza, le opposizioni promettono battaglia con la presentazione già da questa mattina di centinaia e centinaia di emendamenti. I tempi per l'approvazione sono poi stretti per l'imminente scioglimento del consiglio comunale in vista delle elezioni del 26 maggio. Eravamo preparati a un atteggiamento, un costruzionistico che provasse a impedire l'approvazione della delibera. Abbiamo il consiglio comunale trasformato in una cartiera per la produzione di carta che serve solo a bloccare un progetto che per noi è un progetto di rilancio e di riavvio di una città, di una città moderna, sostenibile, verde. E noi siamo contro questo metodo e modo di fare del centro-sinistra. Innanzitutto un'area così importante e soprattutto la destinazione d'uso di quest'area così importante non lo si può fare a fine mandato, ma andava fatto ovviamente qualche anno prima per dar modo anche alle posizioni, alla maggioranza, di poter ragionare sul progetto. E soprattutto non mi va e non ci va come UDC la questione dell'aumento della sosta. Si passa da pochi euro a 9 euro, è una cosa drammatica sia per chi vuole venire a investire su Pescara e sia per i commercianti che secondo noi si troverebbero ovviamente senza clienti all'interno dei loro negozi. Lo abbiamo detto più volte, ripetuto per i mesi passati e lo faremo anche oggi in consiglio con la delibera che approva per la contradduzione alle osservazioni. Riteniamo importantissimo ascoltare i cittadini, il centro-sinistra non lo ha fatto durante il processo di formazione di questo che non è un progetto per quanto ci riguarda, è proprio una vera e propria svendita dell'area di risulta e siamo pronti quindi a dare a battaglia a questa maggioranza. La grande perplessità la manifestano non soltanto le forze politiche di opposizione ma risultano evidenti anche dalle tante osservazioni migliaia che i cittadini hanno depositato in queste settimane che si sono succedute tra l'adozione del progetto del centro-sinistra e il momento che è arrivato, quello della presumibile approvazione. Contraria anche la Confcommercio Abruzzo che per bocca del Presidente Franco Danelli parla di un progetto completamente sbagliato che condannerebbe a morte il centro commerciale naturale. Andiamo avanti, parliamo di lavoro, siamo sempre a pescare assunzioni in comune, rinviati di un mese i concorsi per 19 posti, le preselezioni per i 10.000 candidati slittano per motivi organizzativi, gli esami si svolgeranno dal 29 aprile al 10 maggio, la caldaia si rompe ancora, piscine chiuse, nuovo guasto alle naie di famiglie su tutte le furie, l'amministratore si scusa e dice è un impianto vetusto. E poi i ragazzi del Parco dell'Isis fanno il pieno di medaglie ai campionati di atletica leggera di Ancona. Siamo a Montesilvano, la campagna del comune stangata antiprostituzione, multe per oltre 2.000 euro. E poi la protesta, un bagnatore boom di turisti, ma i lidi sono ancora chiusi. Restiamo in provincia di Pescara, da Montesilvano ci spostiamo a Spoltore, a Santa Teresa di Spoltore in particolare, ladri in ferramenta e macelleria se li avessi visti. Avrei sparato, ha detto uno dei gestori. Città Sant'Angelo, gite sociali e viaggi con il comune e la confraternita in basso. Vedete una notizia che arriva ancora da Spoltore con il giuramento per il WWF, proprio le guardie ambientali del WWF in comune a Spoltore, alla presenza anche del sindaco di Lorito. Siamo a Villanova di Cepagatti, tragedia sulla A25, medico muore nell'auto, uscita di strada. E poi Francavilla, sbloccate la sabbia per il ripascimento. Padovano reclama i 10 mila metri cubi pronti da novembre e si appella alla Regione, servizio che vi avevamo fatto vedere ieri e che avevamo mandato nel corso del nostro telegiornale, proprio con l'intervista a Riccardo Panovano della Sib con Commercio. In basso siamo a San Giovanni Teatino, un'ora di buia a tutela dell'ambiente con Hearth Hour. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'area Vestina e dell'alta Val Pescara. Partiamo dalla parte alta della pagina, l'incidente di tocco da Casauria, sotto accuso all'automobilista, rinviata l'udienza per la morte di Caterina Penne. Corteo per l'ospedale, l'area Vestina si mobilita. E poi invece a Popoli, al CUP dell'ospedale di Popoli, ancora fuori uso, il totem elimina code. Problemi tecnici, dice la ASL. In basso Corvara, studente alla scoperta d'Abruzzo, i ragazzi dell'Istituto Pescara di Sacerbo a Corvara, Pesco Sanzonesco e Cugnoli. Torniamo a Penne, lezione del sindaco in comune per i bambini dell'apparatore, dunque maestro d'eccezione, il sindaco di Penne, Mario Semproni. Siamo alla pagina di Chieti, l'inchiesta dopo il racconto dei genitori, presidente di volley accusato di violenza, il padrone di una squadra di Chieti indagato per abusi su una giocatrice di 16 anni, l'avrebbe palpeggiata in casa e al ristorante. Assolto, cronaca giudiziaria più in basso, assolto dopo 5 anni grazie a una visura, imprenditore scagionato dall'accusa di bancarotta fraudolenta, mai sottratti i libri contabili della ditta. Proseguiamo, siamo a Rocca San Giovanni, l'altra tragedia accaduta ieri in autostrada, Maloria, la guida si schianta e muore, pensionato finisce con l'auto contro il jersey del restringimento della corsia, il decesso durante i soccorsi. E a Ortona, sulla vittima del porto, si attende l'autopsia, questo il titolo che riguarda la tragedia accaduta l'altro giorno al porto di Ortona, la capitaneria consegna alla procura e il fascicolo sull'incidente nel container, il dolore a Villa Caldari. Andiamo ancora avanti, in basso, Sevel, siamo da Tessa, scoppia la grana dei turni, i sindacati trattamento economico equo con il sabato, non più extra. Siamo a Teramo, sistema Gran Sasso, c'è l'inchiesta, acqua a rischio e inquinamento in 10 davanti al giudice ad aprile. E poi soldi e terroristi, perizia sui dispositivi, oggi sarà affidato l'incarico ad un consulente per gli accertamenti su telefoni e pc dei venti indagati. In basso parliamo di sanità, la dialisi si fa a casa in collegamento video, nuovo servizio al Mazzini di Teramo, fra i primi in Italia, del Rosso, migliora la qualità della vita del malato, dice il direttore dell'unità operativa complessa aziendale di nefrologia e dialisi dell'ospedale Mazzini di Teramo. Siamo alla pagina della provincia di Teramo, partiamo dalla parte alta della pagina, incidente all'Arcadia di Castelnuovo, operaio colpito al ventre da una scheggia di alluminio. E poi Teramo, camera di commercio, sospesa la procedura di fusione con l'Aquila. E poi Martinsicuro, senza patente, non si ferma l'alt, multato di 7 mila euro. Andiamo a centro pagina, guardie armate contro lo sciopero, tortoreto ingaggiate da selta per impedire ai dipendenti di lavorare per protesta. Andiamo ancora avanti, proseguiamo pagina 30, Pineto, riparte il progetto della vasca antialluvione, il Comune intende realizzarla nell'area dell'ex mattatoio sulla provinciale 28. Silvi, no all'intonaco sull'arco medievale, il Comune chiede alla soprintendenza di revocare il parere favorevole. Vediamo altre notizie, in basso Atri, teatro comico per sostenere la ricerca sulla fibrosicistica, ancora Atri in distribuzione ai contenitori per smaltire gli oli domestici. e poi Pineto a Villa Filiani si parla del libro Democrazia avvelenata. Siamo arrivati alla pagina dell'Aquila, Biondi Bis, ecco i volti nuovi, parliamo della nuova giunta del Comune dell'Aquila, il Sindaco ritira le dimissioni e ingaggia Fabrizi nella nuova giunta, New Entry anche con Taranta, Bergamotto, Aquilio e Ferella, grandi polemiche con Forza Italia, vediamo in basso l'ira del coordinatore regionale Pagano perché nella nuova giunta non ci sono esponenti di Forza Italia, finito il rapporto di fiducia, Forza Italia, come leggiamo qui, esclusa dal governo della città, parla di tradimento e noi andiamo a vedere allora il servizio proprio che fa il punto sulla nuova giunta, il servizio curato per noi da Germana Dorazio. Con il prevedibile ritiro delle dimissioni, il Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha annunciato la nuova giunta. Dopo le dimissioni in mattinata dell'assessore allo sport Alessandro Piccinini, ufficialmente per motivi di famiglia, il Sindaco ha dato spazio ai nuovi entrati in giunta, molti dei quali non apportengono alle attuali forze politiche, ma sono degli esterni. Il Sindaco ha tenuto per sé le deleghe della gestione del programma Restart, della cultura, del piano strategico, città-territorio, rapporti con gli enti, istituzioni e fondazioni, la sanità e il rapporto con l'università. A Fabrizia Quiglio, avvocato, cassazionista e già capo gabinetto del Sindaco dell'Aquila Biagio Tempesta e responsabile dell'ufficio di staff, vanno le deleghe di turismo e promozione dell'immagine della città, contenzioso, avvocature e rapporti internazionali. A Fausta Bergamotto, cinquantenne laureata in giurisprudenza, specializzata in diritto europeo, vanno le deleghe di personale, partecipate, valorizzazione del patrimonio e politiche del credito. Confermato Francesco Cristiano Bignotti, con le deleghe di politiche sociali, agricoltura, politiche educative e scolastiche, asili nido, politiche abitative, politiche per l'immigrazione, assistenza alla popolazione, politiche per gli studenti universitari e partecipazione. A Raffaele Daniele, vice sindaco di 43 anni, laureato in legge all'Università degli Studi di Teramo, vanno le deleghe di commercio, attività produttive, su app e fiere, ricostruzione beni pubblici, piano di sviluppo del Gran Sasso, politiche economiche, finanziarie, bilancio, razionalizzazione della spesa, politiche delle entrate. Ritorna al Comune dell'Aquila anche Vittorio Fabrizi, 62 anni, ingegnere, già dirigente del Comune. A Fabrizi vanno le deleghe della ricostruzione privata, le opere pubbliche, il patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori pubblici, espropri, sport, impiantistica, promozione sportiva e grandi eventi sportivi. A Daniele Ferella, di 37 anni, laureato in ingegneria gestionale, vanno le deleghe delle politiche urbanistiche, edilizia, pianificazione, ispettorato urbanistico, rapporto con l'Aggiunta, Consiglio. Confermata Carla Mannetti, 52enne, laureato in giurisprudenza, già avvocato, che mantiene le deleghe dei trasporti e infrastrutture, mobilità urbana, sicurezza stradale, polizia municipale, politiche comunitarie e rapporti con le istituzioni, smart city, servizi demografici. Rimane anche Monica Petrella, 49enne, laureata in economia e commercio, con le deleghe di politiche giovanili, pari opportunità, riorganizzazione dei tempi e degli orari della città, informatizzazione e innovazione tecnologica, urpe, semplificazione amministrativa, comunicazione e fascicolo del cittadino. A Fabrizia Taranta, di 39 anni, vanno le deleghe di territori, ambiente, rifiuti, gestione e manutenzione del verde pubblico, attività estrattive, energia, protezione civile, usi civici, sicurezza urbana, videosorveglianza, gestione e manutenzione dei cimiteri. L'Aquila ha bisogno di tantissimo, ma questo lo sapevamo, abbiamo fatto anche molto, magari con dei difetti di comunicazione, ma ci sono stati dei passaggi importanti che abbiamo fatto nella riorganizzazione della macchina comunale e nell'attivazione di procedimenti e processi virtuosi, anche di riforma dell'ente. Adesso abbiamo tanti progetti in corso, alcuni a breve li annunceremo, credo che questa squadra sarà in grado di rispondere alle esigenze della città, naturalmente individuando le priorità e tenendo ben presente le difficoltà in cui operiamo. Siamo alla pagina di Sulmona del centro, un licenziamento e 6 sospensioni stangata sugli impiegati infedeli, multe con tagli agli stipendi e rimproveri verbali per altri 13, archiviata la posizione di 5 dipendenti sorpresi a fare la spesa durante un incontro amoroso, mentre assistevano al Giro d'Italia, la reazione del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, una vicenda dolorosa, ringraziamenti alla Bucilli, fatta chiarezza, adesso ripartiamo. Possiamo dunque fermarci per il momento, andare a vedere le previsioni del tempo, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Siamo al messaggero, ripartiamo dunque con la cronaca dalle province, anzi in questo caso dalla pagina che riguarda la cronaca regionale, il decennale del 6 aprile, parliamo del terremoto dell'Aquila, i colossi del farmaco uniti per l'Aquila, questo è il titolo di apertura a Dompe, Menarini e Sanofi, crescono e confermano gli investimenti abruzzesi, donata un'ambulanza alla locale ASE, il nostro grazie alla forza della gente. E poi in basso vedete dal Mibac un corso per formare 50 specialisti dell'accoglienza, profili selezionati, dalle 114 domande arrivate le lezioni nei giorni della ricorrenza. Siamo alla cronaca di Pescara, parco centrale sepolto da emendamenti, oltre 5 mila richieste di modifica al progetto per le aree di risulta presentati da Movimento 5 Stelle e altre opposizioni, controoffensiva nel segno dell'ostruzionismo dopo la bocciatura delle osservazioni, centrosinistra in difficoltà per l'approvazione, abbiamo visto prima il servizio sulla seduta di ieri in consiglio proprio sulle aree di risulta, totosindaco, sette nomi per il centrosinistra destra, le mosse dei partiti, oggi la decisione del tavolo nazionale, in Forza Italia non mollano seccia e albore mascia, le indecisioni del PD. E intanto parla l'ex esponente dell'Italia dei Valori, Carlo Costantini, che dice torno per fare grande Pescara. Per quanto riguarda invece la cronaca, quanto accaduto negli ultimi giorni all'ospedale di Pescara, l'aggressione a due infermieri, il consigliere comunale di Pescara Casciano chiede la presenza al pronto soccorso della Polizia H24. Cambio d'alcione, il ristorante dei VIP, fallita la trattativa per l'ingaggio dello chef stellato Vito Pastore, il locale di Luca Cardano sulla riviera, passa ai soci di Fish Market al creatore dello stabilimento, resta la gestione della spiaggia, scompare la braceria, sarà esaltata la vocazione marinara. Dunque ci si prepara alla prossima stagione estiva, Vissani, Siffredi, Pedicini, Pranzi da Star, proprio nei locali più in della riviera pescarese. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, in particolare a Montesilvano, dove il centrodestra, leggiamo da questo titolo, Licenzia Maragno, il sindaco uscente sfiduciato dalla maggioranza che si oppone alla candidatura a bis, per la Lega si fa avanti. Antony Aliano, vigilia elettorale agitata, dopo lo strappo di ieri il centrosinistra tenta di approfittarne con Mimmo Di Giacomo, dunque giochi più che mai aperti a Montesilvano. Torniamo alla cronaca, incidente mortale, autostrada bloccata per ore a Villanova per la morte di un uomo in mattinata, c'era stata un'altra tragedia sull'A14 nei pressi del casello di Lanciano. a Pescara ruspe in azione, via Palermo chiusa per abbattere un palazzo e poi invece cronaca ruba motori e attrezzature nautiche, finisce nella rete dei carabinieri. Siamo all'Aquila, la nuova giunta apre i civici Fabrizio Elgiolli del sindaco, abbiamo visto appena pochi minuti fa il servizio di Germana Dorazio che ha fatto proprio il punto sulla nuova giunta del comune dell'Aquila, Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, rapporto di fiducia finito, la di Cosimo sbotta su Facebook. E poi le dimissioni, Piccinini lascia la poltrona per motivi personali. De Matteis basta alibi per il commercio, serve strategia, dice l'esponente politico aquilano. Allarme, Parco del Sole, ora le telecamere, appello di mamme per l'Aquila dopo gli ultimi danni, dicono servono maggiori controlli anche della polizia municipale. Restiamo ancora all'Aquila, la biblioteca Carloni alla deputazione e poi evasione fiscale, arrestato patron di un consenter e poi rete dello spaccio in centro, continuano le ammissioni. Proseguiamo, ci spostiamo a Sulmona, Furbetti al comune, licenziato l'usciere, questo è il principale risultato dell'inchiesta disciplinare sui dipendenti conclusa dal segretario comunale Buccilli. E poi vediamo altre notizie. Avezzano, il mistero della lettera poste italiane chiarisce e poi invece Villetta Barreo, Cervo si incastra nel filo spinato, liberato dalle guardie ambientali. Andiamo a centro pagina, Avezzano dopo la condanna, la Stati non si dimette e poi Pescina, pensionato investito via le perizie sulle auto, sul Mona la villa comunale tra rifiuti e degrado, Celano rifiuti un premio per chi paga la Tari. Andiamo a vedere la pagina di Chieti, anche in questo caso si parla di Tari, le bollette più salate per le famiglie di 5 persone. E poi giornata del teatro, oggi a Chieti, a Teatro Marrucino, tutti gli appuntamenti in questo articolo di Spalla, a pagina 50. E poi, temporamento fatale, patteggia un anno, la vittima è Dionisio, era stato consigliere comunale a Torrevecchia. E a San Giovanni Teatino si spengono le luci per un'ora nelle piazze per l'adesione alla mobilitazione globale del WWF con Heart Hour. Andiamo avanti, siamo a Vasto, passa il Giro d'Italia, pioggia di asfalti, la regione stanzia, 350 mila euro saranno rimessi a nuovo, Corso Mazzini e Via Incoronata, fino all'investo con la statale. Il vice sindaco Forte, il contributo di 50 mila euro dato alla corsa, è stato un buon investimento e tecnici intanto al lavoro. Da Vasto ci spostiamo ad Ortono, operaio schiacciato in porto, gli atti alla procura, la CGL accusa sicurezza, costo da non tagliare. Dicevamo prima dell'incidente mortale di ieri a Villanova, un'altra morte sulle nostre strade in mattinata ieri a Lanciano, si schianta contro il Grail, muore Anziano, la 14. Nel caos in basso parliamo della festa dei David che vedrà anche protagonista, il regista bastese Alessandro Di Gregorio e poi Lanciano, la cronaca, picchia la testa sulle scale, gravissimo, uomo trasferito in ospedale a Pescara. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero Palazzini Ater, gli sfollati a casa entro la fine del 2020. Si tratta del nucleo di 1200 residenti con danni di tipologia B in provincia. L'obiettivo è quello di evitare la delocalizzazione permanente. E sempre a Teramo il sindaco d'Alberto istituisce il tavolo della mobilità. Centro pagina raccolta rifiuti, isole ecologiche, sconti fino a dimezzare la bolletta. Andiamo a vedere l'altra pagina, la seconda della provincia di Teramo. Lacrime e feste nell'estate che avanza. Siamo a Giulianova, chiudono in città purtroppo altri locali storici ma anche giovani come accade nel centro storico nel corso principale del Lido. Disordini nella gara, nereto penne, tifosi rischiano il DASPO, i carabinieri stanno infatti esaminando i filmati. Ancora Giulianova, amministrativa, è nata la candidatura a Cameli, no della verdecchia al PD. Ancora Giulianova, i cavi della fibra passano nella fogna. E poi Castelnuovo, si inceppa macchinario colpito all'addome, operaio di 47 anni, era a lavoro in una fabbrica di mobili. Celta, la proprietà ha chiuso i cancelli a Tortoreto. Siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine interne del quotidiano La Città. Ripartiamo dalla cronaca regionale, Biondi torna in sella ma rompe con Forza Italia, presentata la nuova giunta dell'Aquila, fuori i forzisti. Poi cronaca, blizze del Nassi in un birrificio, sequestrata una tonnellata di Bionda. In basso, sul Mona, licenziamenti e sospensioni per i furbetti del cartellino. La CISL lancia lo sportello per il lavoro. La proposta del segretario Scuteri in discussione con gli assessori regionali di Abruzzo e Molise. Pagina 4, Cittadelle della Cultura, impresa terramana, sistemerà l'ospedale Estense. La Montoriese d'Aiutorio si è aggiudicata il progetto di recupero da 17 milioni di euro a Modena. Industria 4.0, aziende terramane protagoniste a Pescara. 5 industrie locali del Manifatturiero parteciperanno alla Fiera Internazionale per l'Innovazione. Dunque, aziende terramane protagoniste a Parma. Siamo invece alla cronaca che ci porta a Castelnuovo, trafitto alla pancia da una lama di alluminio ferito un operaio. In basso, parliamo invece dell'Università di Teramo. Piccolo imprenditore si racconta in inglese agli studenti incontro del Presidente regionale di CNA Abruzzo, Saraceni, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. Teramo, il ritorno del privato suona la sveglia in Teramo Ambiente, Comune, Società e Sindacati. L'orizzonte dei protagonisti ormai è proiettato all'asta del 16 aprile. In basso, le modifiche alla IUC. L'amministrazione d'Alberto, siamo sempre a Teramo, ha modificato il regolamento della tassa che racchiude imu, tasi e tari, sconti sui rifiuti a chi fa compostaggio e dove si useranno le isole ecologiche. Ancora Teramo, teatro romano, fare i conti con 700 anni di storia nella cavea che si vorrebbe scavare, dovrebbero esserci le testimonianze della Teramo Longobarda. Siamo a pagina 9, si parla di ricostruzione. Il Presidente Marsiglio libera gli appalti, Presidente della Regione, infatti, firmato il decreto che sblocca i lavori pubblici nei comuni del cratere. Parliamo anche di trasporto pubblico. La tratta tua, Giulia Nova Roma, resterà pubblica. C'è l'impegno da parte della Regione, della Società Unica di Trasporti. Mobilità, creato un altro tavolo, discussi i temi di sempre, scusate, trasporto pubblico locale, collegamenti con Ateneo e periferie e sicurezza. Tavolo della mobilità che si è tenuto ieri in municipio a Teramo. Parliamo anche di disturbi alimentari. Domani Fiocchetto Lilla con il dottor Mario Di Pietro. Andiamo a vedere anche la politica. Il popolo della famiglia fa la morale al sindaco sulle unioni civili gay per Simona Lupi. Avrebbe potuto rifiutarsi di celebrare come Brucchi. Invece ha preferito la ribalta mediatica. Retromarcia sulla fusione della Camera di Commercio. Siamo ancora a Teramo. L'ente di Via Savini congella il progetto con l'Aquila in attesa del parere della consulta. Parliamo anche di ambiente. Rinnovato l'accordo tra Comune e Guardie. Gadit. Proseguiamo. Siamo alla pagina della Val Vibrata e Valle Castellana sulle nevi di San Giacomo per una giornata di solidarietà. Giovedì scorso è stato l'evento del Cotugge con gli ospiti dei centri diurni di Ascoli Piceno. E a Sant'Egidio e Ancarano gli studenti dicono no al razzismo. Andiamo avanti. Martinsicuro. In arrivo un milione e mezzo di investimenti nella cittadina della provincia di Teramo. Ciclabile, nuovi asfalti e porticciolo nel bilancio che oggi approda in Consiglio Comunale. A Tortoreto, niente sciopero alla rovescia, i lavoratori della Celta trovano le guardie ad attendere i dipendenti e sindacati costretti a rimanere fuori dai cancelli, attesa in settimana la decisione del Tribunale. Siamo alla pagina di Mosciano. In arrivo due nuovi insediamenti produttivi. Il Consiglio Comunale approva due varianti urbanistiche lungo la Statale 80 e nella frazione Mulinetto. Andiamo a vedere anche la prossima pagina. Siamo a Giulianova. La politica in primo piano per le amministrative della città giuliese. La Cameli corre da sola e al centro. Ufficializzata la candidatura a sindaco con due liste civiche cattoliche. Vediamo poi di spalla l'arme buche lungo via Trento e via Napoli a Giulianova. E poi turismo soldà soddisfatto per la conferma della bandiera verde a Giulianova. Ancora a Giulianova i lavori alla fognatura fanno saltare la rete internet. Siamo a Roseto, alla pagina di Roseto degli Abruzzi. Approvate le riduzioni tari per le famiglie via libera al piano finanziario che abbassa la tariffa a Roseto. Ma per le opposizioni i conti non tornano. Andiamo poi in basso. Sempre Roseto passa all'unanimità la cancellazione della tassa sui passi carrabili. Il consigliere Celestino Salvatore ha voluto dedicare il risultato ad Antonio Frattari scomparso lo scorso anno. Siamo a Silvi. Si accende la discussione sull'intonaco in centro. Il sindaco risponde a Partipilo su Porta Medievale e Torretta. Siamo noi i primi ad essere contrari. E poi in basso Pineto. In 4.000 partecipano alle giornate dedicate ai tesori di Pineto. Tanti siti che sono stati aperti al pubblico in città, tra cui il geosito Il Cenerone, che ha contato oltre 600 presenze. Pagina della cultura. Ritorno d'autore in terra d'Abruzzo. Esce il libro di Roberta Scorranese. La presentazione ci sarà alla Biblioteca Delfico di Teramo. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Apriamo con le prime tre pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello Sport. Ovviamente titoli principali per l'Italia. Italia che ha superato, anzi travolto per meglio dire, il Lichtenstein al Tardini di Parma per 6 a 0. Bell'Italia, Festa Quaglia, record per il giocatore della Sampdoria con i due gol su rigore. Il più anziano tra i marcatori della Nazionale. In rete anche Sensi, Verratti, Kean e Pavoletti in alto. Vedete il titolo che riguarda lo stadio San Siro di Milano. Ciao San Siro. Milano stadio da 60.000 posti. Pronto in 4 anni. La nuova struttura sorgerà dove oggi si trovano i parcheggi. Vediamo altre notizie. Icardi in gruppo di Gelo Brozovic lo saluta via social. Poi Ronaldo sorride. Lesione modesta. Ma la gara con l'Ajax è a rischio. Poi Rui Costa. Milan sorpreso da Piontec. Paquetà lo volevo nel mio. Benfica. Corriere dello Sport. Malcom l'Inter ci riprova. E poi tutto quaglia. Gioco, gol e divertimento. Il bis del vecchietto. 6 a 0 dell'Italia. Lichtenstein. Ronaldo ne salta almeno 3. Il fenomeno con lesione modesta. La coscia. Ma contro l'Ajax. Sarà in campo. Infine tutto sport. Ajax. Io ci sarò. Ronaldo dunque si candida a scendere in campo nella gara di Champions League. E poi l'Italia quaglia. E che anvola. Ovviamente riferimento ai due giocatori che sono stati tra i protagonisti della vittoria di ieri. Con il Lichtenstein siamo alle pagine dello Sport del centro. Ripartiamo proprio da Euro 2020. Tutto facile. Goleada dell'Italia con il marchio di Quagliarella. Verratti. L'ex pescarese giganteggia. Felice. Per il gol tra le pagelle. spicca il voto di Spinazzola. Sette e mezzo. Incisivo sulla fascia. Intessa tra Inter e Milane per il nuovo stadio. Meazza da demolire. E poi siamo alla pagina del Pescara. La pagina che riguarda la formazione bianca-azzurra. Allarme mediana. Melegoni rischia di chiudere il campionato in anticipo. Si fa male con l'Under 20. Distorsione al ginocchio. Da valutare legamenti. Nel finale di stagione. Pillon potrebbe restare con soli 5 centrocampisti. E intanto domenica prossima alle 21 ci sarà la gara di Lecce. Campagnaro è recuperato. Si allena col gruppo e dunque sarà della gara. In prova l'attaccante nel Kosovaro. Avigiai. E noi sul Pescara e sul punto della situazione in vista della gara di Lecce. Dell'amichevole di domani ad Ortona. Possiamo andare a vedere il servizio curato per noi da Andrea Costantini. Una vera e propria tegola sul Pescara nel giorno della ripresa degli allenamenti. L'infortunio di Filippo Melegoni. Per il quale si sospetta la rottura del crociato. Il centrocampista in prestito dall'Atalanta si è fatto male ieri nel corso della partita di Elite League. Giocata a Crienz in Svizzera. Tra la selezione under 20 dell'Italia e i pari età elvetici. Proprio in queste ore sono in corso gli accertamenti del caso. Ma le prime sensazioni non sono affatto positive. Per il promettente centrocampista. 13 presenze e un gol con la maglia del Pescara. Stagione finita. Oltre a saltare le ultime partite di campionato con il Delfino. Melegoni non potrà neanche disputare i campionati mondiali under 20. Fissati dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. Lui che è un pilastro della selezione del CT Paolo Nicolato. Per il giocatore il primo grave infortunio della giovane carriera. Mentre il Pescara perde un calciatore importante in un reparto, quello di centrocampo. Già accorciato numericamente dal mercato di gennaio. Dalle partenze di Macin e Palazzi e l'arrivo del solo Bruno. Non il modo migliore di iniziare una settimana importante. che porta al match di Lecce e nella quale Pillon contava di recuperare i reduci dalle nazionali. Gli under 20 Capone e Antonucci. Memo Schaida e l'Albania. Mentre oggi chiude i suoi impegni con l'under 19 il difensore Bettella. E nella quale contava di recuperare altri infortunati. Era già rientrato in gruppo il capitano Gaston Brugman. Non ci sono particolari problemi per Monachello e Del Sole. Le prime sedute settimanali aiuteranno a capire le condizioni di Ugo Campagnaro. che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere pronto a riaggregarsi col gruppo in questa settimana. La presenza di Campagnaro è fondamentale. I numeri dicono che quando è titolare il Pescara viaggia a oltre due punti di media partita. Il Toro di Moron se recupera. Andrà comunque gestito in questa fase decisiva del torneo. Quando il Delfino in 12 giorni scenderà in campo quattro volte. Domenica a Lecce. Mercoledì in casa con Palermo. Domenica 7 ad Ascoli. E il 12 l'anticipo Casalingo con il Perugia. Un vero e proprio tour de force. Si avvicina il momento del rientro anche per Frank Canuté. Ancora più urgente dopo il grave infortunio corso a Melegoni. Il centrocampista senegalese ha parlato delle sue condizioni e di un chiodo fisso. La promozione in Serie A. Adesso sto quasi rientrando. Sto un po' meglio dai. Cosa hai avuto? Strappato il polpaccio. C'è stata anche l'assenza contestuale di Brugman. Forse avresti trovato anche più spazio. Sei un po' rammaricato proprio di essere mancato in questo momento. Sì, quest'anno purtroppo infortuni. Sono un po' stigato. Però è il calcio. E' un pescato che può lottare solo per i playoff? O c'è ancora da credere alla promozione diretta? Secondo me c'è ancora da credere. Perché tutte le partite magari sempre di vincere. Però promozione diretta si può anche fare. Cosa chiedi da un punto di vista personale a questi ultimi due mesi di campionato? Niente, dare il massimo, aiutare i compagni per andare in Serie A. Quindi la Serie A è l'obiettivo del pescato? Eh sì, ormai non siamo più da scondere. Dobbiamo andare in Serie A. Alle vie del mare i biancazzurri domenica sera se la vedranno con una squadra che ha acquisito grande convinzione nei suoi mezzi. Come traspare dalle parole del tecnico Liberani dopo la goleada inflitta all'Ascoli? Noi abbiamo intrapreso questa strada dall'inizio. È normale che ogni tanto ci sono degli ostacoli o delle trappole che abbiamo pagato. Però credevamo in quello che facciamo. I ragazzi quando io trasmetto qualcosa con lo staff e li vedo che gli piace, sono interessati e lo fanno con entusiasmo. Qualsiasi idea di lavoro, qualsiasi modulo, numeri, quello che conta è quanto loro poi credono in quello che tu gli dici. E dal primo giorno ho avuto buone sensazioni. Poi è normale che la perfezione non esiste, i momenti di difficoltà ci sono stati e ci saranno sicuramente nelle prossime otto partite. Però abbiamo intrapreso questa strada e vogliamo portarla fino alla fine. Siamo alla pagina che riguarda il Teramo, sempre dalle colonne del centro. Pacini, la porta del Teramo, ormai un nuovo padrone, da terza scelta a titolare contro la Gianerminia. Non me l'aspettavo, dice il portiere 24enne, ma il lavoro alla lunga paga. Domenica sfida al Renate. Ci sarà Infantino che aveva saltato la gara al città di Gorgonzola. Parliamo anche un attimo del calcio di promozione perché la Sant'Egidiese cambia allenatore con l'ingaggio di Peppe De Amicis al posto di Franco Nardini. Andiamo a vedere poi la prossima pagina. Calcio a 5, Barbarosso, umiltà e allegria per vincere, parla il patron della formazione di Calcio a 5 abruzzese dopo la vittoria della Coppa Italia. Vediamo anche l'altra pagina che riguarda il tennis. A Chiedi e Francavila un mese di fuoco. Il grande tennis sbarca in Abruzzo. Sabato al via le prequalificazioni agli internazionali d'Italia. Poi l'ATP Challenger in Lizza di Nicola, Picchione e Matteucci. Andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero e poi del quotidiano La Città. Vedete il messaggero Melegoni fa crack, campionato finito. Il giocatore del Pescara ha riportato lesioni al ginocchio e legamenti. Oggi si avrà la conferma sull'entità dell'infortunio. Intanto in prova Giai Campagnaro è pronto invece per la gara di Lecce. Poi basket di serie A2 da Paoligno a Felipe. Una vita per Roseto. Vediamo la seconda pagina. Teramo ancora a Corsaro con Pacini nuovo portiere. E poi il lanciano dei record invita tutti allo stadio. Parliamo del campionato di promozione. Domenica possibile infatti la matematica promozione, scusate il gioco di parole, dei rossoneri nel torneo di eccellenza. Restiamo i dilettanti. Zanon, l'Aquila, un calo ci può stare, parla il difensore ex Pescara oggi in forza. La formazione rosso-blu. E il Chieti a Nereto può festeggiare già la serie D. Dunque nero-verdi mobilitati in vista della gara del prossimo turno. Chiudiamo con lo sport del quotidiano La Città. Una è andata, adesso manca solo lo sprint. La vittoria, parliamo ovviamente del Teramo, in linea con la nostra previsione. Parla il tecnico Maurizzi. Pacini, devo ringraziare Nino Galli e l'Ais, il compagno di squadra, tra l'altro Gomis, l'Ais Gomis infortunato, a cui però la società ha rinnovato il contratto. Parliamo anche di volle in basso, una vittoria da grande squadra. La Blue Italy Pineto regola Foligno per 3 a 1. E siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi. Grazie come sempre per averci seguito, grazie a Claudio Di Giacomo in regia. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda l'informazione della nostra rete alle 14 con la prima edizione del TG6. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.